Juventus e Napoli due squadre che hanno avuto nelle loro file i due più grandi funambuli che il calcio mondiale abbia mai espresso Omar Sivori e Diego Armando Maradona tutti e due numeri 10 tutti e due mancini naturali tutti e due cabesonni Sivori forse più cinico più irridente nei confronti degli avversari Maradona più pratico senz'altro dal gioco più finalizzato al gol in Italia Diego ha giocato esclusivamente nel Napoli Omar in tutte e due le squadre Juventus e Napoli anche se il meglio di sé l'ha dato proprio in maglia bianconera ecco come Sivori Juventino ha castigato il Napoli un gol il 12 ottobre 1958 tre gol uno dei quali su rigore il 17 aprile del 1960 e tre gol il 21 maggio del 61 ed ecco la risposta di Maradona 3 novembre 1985 su calcio di punizione in diretto di rara bellezza 13 dicembre 1987 su calcio di rigore e 25 marzo 1990 con una doppietta oggi Sivori e Maradona non saranno in campo speriamo di non doverli rimpiangere troppo ed ecco il